Ciao, sono Lorenzo Puglisi e studio Amol e faccio il corso di 3D Animation. Stiamo facendo un cortometraggio animato all'interno di un carcere nel deserto, che ha come personaggi questi carcerati e i quali attraverso questi giochi, all'interno del carcere, vincono nel deserto. Il mio personaggio è Alok, il santone in duo, a cui non interessa per niente né dove si trova né quello che deve fare. In realtà, questo unico obiettivo è meditare eternamente. Nel 3D rendering è la parte che in realtà mi appassiona di più e la parte di cui mi sto occupando principalmente quest'anno. Il mio sogno in assoluto sarebbe lavorare alla Pixar e ci arriverò.